Ci siamo? Partiti! Ci siamo? Partiti! Al primo traguardo è passato Kashmir Guest, attaccato al largo del Nevitable Love, poi ancora Uniket Rar che si aggiunge alla lotta, più dietro Regina Carolina, nell'ultimo tratto Kashmir Guest e Nevitable Love, Kashmir Guest! Su Nevitable Love poi Uniket Rar e Regina Carolina vicini per il terzo. Al tentativo numero 12 ha finalmente colpito Kashmir Guest, la prima della carriera per lui. Federico Bossa per il signor Mioas ai colori, la signora Toccolini al training.